La questione è stata esaminata a lungo ieri a Roma, nel corso della riunione all'Enac per la presentazione del piano industriale dell'aeroporto, senza un intervento forte dello Stato che deve sostenere in toto le spese dei controllori di volo, il magliocco non può decollare. La suoco non può collarsi gli oneri Enav, altrimenti andrebbe in perdita. Una riunione complessa e articolata, quella di ieri, nel corso della quale il nodo dei servizi di assistenza al volo è emerso con tutta la sua complessità. Non possiamo nascondere le difficoltà a cui si andrebbe incontro, coloro lo Stato non intende assumere gli oneri derivanti dalle spese per l'assistenza al volo, ha detto al termine dell'incontro il sindaco Alfano. La posizione dell'attuale governo non lascia al momento spazio e all'ottimismo. Da quanto riferito, l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture è di ridurre gli aeroporti italiani inclusi nel contratto di programma di trasporto aereo. Per superare questo problema si stanno valutando opzioni alternative, come quella suggerita dallo stesso Ente Aviazione Civile, di integrare il piano industriale tenendo conto della possibilità di operare, eventualmente nella fase iniziale, col sistema di informazione sul traffico aereo, AFIS e non di controllo del volo. In questo modo la sua ACO potrebbe avviare subito all'aeroporto con costi di gestione molto contenuti rispetto al controllo di torre, una soluzione tuttavia che non è gradita a molti vettori aerei. Intanto entro pochi giorni arriverà il nulla osta per la realizzazione del deposito carburanti.